Siamo con Amar... Siamo con Amar... Siamo con Amar... Per cercare la vittoria, secondo te, cosa avrebbe dovuto fare in tua squadra? Non è... Io faccio... Io faccio... Io faccio cose... Mi diciamo tanto... Le scelte... Le scelte... Le scelte... Le scelte... Le scelte... Le scelte... Quindi... Il problema più mentale... No, non so... Il problema più mentale... Ok... Trove... Sempre per lavorare... Perché... Non è che c'è la sosta... Quindi... Non... Qui... Le scelte...